Ciao, per questo riso black and white abbiamo bisogno del riso venere integrale, del riso bianco, dei pomodori secchi per fare la crema insieme alla ricottina perché adageremo il riso sopra un letto di crema di ricotta con pomodori secchi. Io il riso venere ce l'ho già cotto. Metto a bollire il riso bianco, aggiungo l'equivalente del doppio di acqua, fin quando il riso assorbe tutta l'acqua il riso è pronto. Quindi faccio proprio una cottura semplicissima. Come avevo già detto in precedenza mi era avanzato appunto del riso venere che avevo fatto l'altro giorno, quindi non era abbastanza per fare un piatto unico. Allora ho deciso di unirlo a appunto un pochino di riso in bianco e se volete fare questo stesso procedimento dovete comunque fare i due risi separati perché il riso venere lascia il colore nell'acqua. Andiamo a mettere la ricotta, 4 pomodori secchi, un cucchiaio di parmigiano e andiamo a frullare. Se è troppo denso aggiungiamoci un goccino di latte. Ok, adesso andiamo a impiattare. Per fare la formina ho utilizzato appunto questa per i maffi mischiando riso bianco e riso nero e in modo che insomma gli diamo una forma per dare appunto un impiattamento. Poi andiamo ad aggiare nel piatto un cucchiaio o due cucchiai di crema per fare il fondo. La crema avanzata la potete utilizzare anche per condire della pasta la sera o comunque conservatela. Andate poi semplicemente a dargli una scaldata, insomma il riso deve essere tiepido. Questo è il risultato davvero squisito e spero che la ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ragazzi!